mmmm e cosa leggi? Ulessio del greco di Roma mmmm Quello che aveva l'anno nato è il cavallo di legno e... e qui dentro? e dentro c'erano 300 spartani e... ma e quindi? e quindi gli spartani col cavallo dei troiani fanno seco agli ottomani ehm mmmm mmmm ah no scusa eh non c'era Polif... mmmm no Polifemmo è sempre messi i sposi mmmm